salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi siamo qui da Gianni Modellismo per la gara del Porsche Cup Tamiya TT02 già stanno facendo i primi i primi test la pista sicuramente ancora ancora un po' umida e niente tra poco partiamo se ne fa qualche giretto e vediamo com'è il tracciato facciamo il primo test e vediamo comodissimo un po' Grazie a tutti. 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 Ammunizione per l'auto numero 42. Ammunizione per la 42. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo al controllo delle macchine. E poi si inizia la gara. L'auto è già pronta. E niente. E niente. E poi, come si inizia la gara. e inizia la gara. E poi, come si 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 inizia la gara. alla gara cosa ho es Together. E poi, come si che è nice. Inizia Mdavi! Quarto ragazzi quarto Grazie a tutti